Abbiamo con noi Luna, una ragazza che si impegna nel volontariato per il recupero degli animali che vengono abbandonati. Fa parte di un'associazione, come dicevo, di volontari, dal nome Una Zampa nel Cuore, che già significa molto questo titolo dell'associazione. Possiamo dire ai telespettatori di cosa voi vi impegnate, soprattutto come occupate tutto il vostro tempo libero a questa attività? Salve, buonasera. Noi ci occupiamo in primis, collaboriamo con l'ASL per la sterilizzazione delle colonie feline del Porto Gruarese, in tutti gli 11 comuni del Porto Gruarese. Poi cerchiamo di andare incontro ai cittadini che ci chiedono una mano nel recupero di animali randaggi e abbandonati, gatti e cani, soprattutto gatti. Se qualcuno desidera avere un animale, come fa a rivolgersi a voi? Perché voi affidate anche degli animali, soprattutto cercate anche l'affido. Assolutamente. Ci trovano su Facebook, abbiamo una pagina proprio dell'associazione, un gruppo, e lì mettiamo tutti i posti dei gattini che troviamo e che hanno bisogno di essere adottati. C'è anche un numero di telefono, ci trovano tramite il telefono. Comunque collaborando con l'ASL, anche tramite loro possiamo venire, sì, ci possono trovare. Ecco, quando trovate un animale per strada, un animale che se per strada purtroppo è quasi sempre anche un po' malmesso, e una persona vuole affidare, cioè vuole prendere proprio in affido un animale, e questo animale è protetto, questo animale viene dato quando è vaccinato, che dal punto di vista veterinario è un cane o un gatto perfetto, dal punto di vista proprio igienico, e dal punto di vista anche sanitario. Sì, noi dobbiamo, cioè li sverminiamo prima, li spulciamo, come si dice, e cerchiamo di, cioè no, li diamo via perfettamente puliti. Infatti, purtroppo, quando ci arriva un animale che non è del tutto sano, dobbiamo tenerlo noi nelle nostre case rifugio, perché non abbiamo dei veri e propri rifugi, ma abbiamo delle case rifugio, e quindi gli animali che hanno bisogno di più cure rimarranno nei nostri rifugi. Ecco, in questa fase storica, nel territorio del Portoguarese, rispetto anche agli altri territori dell'Italia, ecco, queste bestie che vengono abbandonate, questi animali che vengono così lasciati solo, e magari si dice nel famoso estate, la gente parte in ferie e abbandona il proprio animale. Com'è questo fenomeno? È ancora, purtroppo, presente? Ce ne sono ancora tanti. Diciamo che per i cani è un po' diverso, perché per fortuna le persone vengono sensibilizzate, si sono sensibilizzate un po' di più e sono sempre meno gli abbandoni. Per i gatti è un po' diverso, ne troviamo tuttora ancora troppi, troppi. Si parla almeno di un centinaio all'anno, all'incirca, siamo su 100 gattini all'anno, tra mamme, abbandoni di gatti adulti, mamme con gattini. Quindi è ancora un fenomeno troppo, troppo presente nel territorio. Sicuramente meno di una volta.